Lascio ovviamente un carnevale con... Maria Flora Gianmarioli si dimette da presidente dell'ente carnevalesca di Fano. L'ho annunciato questa mattina all'interno di Palazzo Fucci dove Gianmarioli ha presentato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali dell'8 e 9 giugno insieme al partito di centrodestra, più esattamente con Fratelli d'Italia. Non è stata una scelta semplice e anche molto ovviamente ponderata. Ad un certo momento della vita bisogna mettere un punto e ricominciare. E ricominciare cercando di essere utili alla città e anche al carnevale, spero, se mi sarà data la possibilità, in altro modo. Lascio una carnevalesca e un carnevale di grande visibilità. Ringrazio tutti i collaboratori. Una cosa in cui credo tanto è tornare a mettere le persone al centro. Ad esempio mi è capitato spesso quando sui social magari c'erano critiche al carnevale. Io ho sempre contattato tutti privatamente spiegando le motivazioni. Non c'è stata una persona che non mi ha detto scusi presidente, non lo sapevo. Quindi questo dimostra che se uno parla con le persone e gli spiega, le persone non sono sciocche. Penso che recuperare un dialogo con le persone sia molto importante. Ovviamente il mio obiettivo, il mio ambito di manovra, logicamente sono le grandi manifestazioni. Ho preso quattro anni fa un master in organizzazione ed eventi. Sono la cultura perché io sono laureata all'Accademia d'Arte Dramatica a Roma e quindi ho sempre fatto l'attrice per i primi anni della mia vita. Ma comunque ho sempre bazzicato l'ambito del teatro, dello spettacolo. Il mio raggio d'azione in cui posso dire qualche cosa è ovviamente questo e le pari opportunità. Questi sono i miei raggi d'azione dove posso dire la mia e continuare a studiare. Classe 1971, Maria Flora è stata per otto anni consecutivi presidente della manifestazione più importante della città, ovvero il Carnevale, dove negli ultimi anni questo evento ha visto alti e bassi. Ora spetterà ai consiglieri indicare i nuovi nomi di presidente e vicepresidente che gestiranno l'ente per i prossimi due anni. Nel frattempo, al posto di Gian Marioli e Mirisola, anche lui pronto alle prossime elezioni, subentreranno Eusepi e Paluzzi. Do un grande bocca al lupo al nuovo direttivo della Carnevalesca, che ovviamente non abbandono perché ci saranno dei passaggi di consegne da fare. E insomma, è in bocca al lupo a me per questa nuova avventura. Poco fa in conferenza ha detto che lascia la Carnevalesca con l'edizione 2025 del Carnevale già avviato. Quindi i lavori sono già partiti e soprattutto lascio con la designazione della nuova artista che è Maddalena Fano Medas, l'artista che disegnò i capanni, i famosi capanni dell'Ido, le pupine dei capanni dell'Ido. A fianco di Gian Marioli, il candidato a sindaco di Fano, Luca Serfilippi, e la capogruppo di Fratelli d'Italia, Loretta Manocchi. Sono felice della candidatura di Maria Flora Gian Marioli, che porta con sé un'esperienza importante sull'evento più importante della nostra città. Quindi sono sicuro che sul Carnevale noi dovremmo veramente fare molto di più. Basta pensare ad esempio ai capannoni dove lavorano i carristi, che sono da ristrutturare e necessitano di un ampliamento, ma anche ripensare tutta la politica sui grandi eventi. Sono sicuro che Maria Flora, insieme a tanti altri che si stanno aggiungendo alle nostre squadre, daranno un contributo fondamentale e importante per far cambiare passo alla nostra città. Sono molto contenta e orgogliosa che Maria Flora Gian Marioli abbia scelto Fratelli d'Italia, quale partito per spendersi e mettersi in prima linea. A vantaggio ovviamente non solo di tutto il gruppo, ma di tutta la coalizione, considerando la sua esperienza nell'ambito della cultura, del teatro, e quindi sono sicura che riuscirà a portare un importante contributo.